Io voglio sapere Renzi, questa ripresa, dove la vede? Forse a casa sua, perché a casa nostra, solo il mese di agosto, nella nostra bella Irpinia, hanno chiuso quattro fabbriche con 240 licenziamenti. Adesso tocca a noi la Mondial, 71 licenziamenti, pur avendo avuto delle sovvenzioni regionali e europee, comunque lui sta chiudendo e ci sta cacciando.